Costruito intorno al 1300 dalla famiglia Calcamuggi, il Castello di Oviglio è stato dichiarato nel 1908 Monumento di Interesse Nazionale, su istanza del Ministero della Pubblica Istruzione, e oggi apre le sue porte per accogliere voi e i vostri ospiti in una suggestiva cornice ricca di storia e di fascino. Il Castello dispone di vari spazi interni ed esterni, che potranno essere allestiti secondo le vostre esigenze, per accogliere il ricevimento nuziale che avete sempre desiderato. I pregiati saloni, decorati con elementi e affreschi d'epoca, hanno una capienza di circa 150 persone, mentre il parco privato, che circonda l'edificio storico, potrà essere allestito perché possiate celebrare il vostro matrimonio in una cornice naturale di rara bellezza, così come per accogliere un romantico banchetto all'aria aperta. La giornata più speciale della vostra vita trascorrerà in uno scenario suggestivo e verrà accompagnata da un servizio completo e impeccabile. La direzione, infatti, vanta anni di esperienza nell'organizzazione di eventi speciali e unici, per questo saprà fornirvi dei preziosi consigli perché nulla venga lasciato al caso. Il castello dispone di una cucina interna e il qualificato staff elaborerà per voi un menù personalizzato che vi farà riscoprire i migliori sapori della gastronomia mediterranea e regionale e, su vostra richiesta, potranno proporre pietanze adatte che rispondano alle esigenze di chi deve seguire un regime alimentare specifico. Lo staff si occuperà, infatti, con minuzia ed edizione della decorazione degli spazi adibiti ai vostri festeggiamenti e alla mise en place e saprà fornirvi dei preziosi consigli nella scelta dei migliori fornitori della zona.